due pere un po di zucchero di canna e un rotolo di pasta sfoglia per un dolce dall'effetto wow ragazzi bello da vedere buonissimo da gustare vi basta tagliare a metà le pere lavate con la buccia eliminare il picciolo e di semi incidere leggermente la parte panciuta eliminare le falde incise alternate passare la parte interna sullo zucchero di canna mettere sulla pasta sfoglia ritagliare la sagoma della pera con la punta del coltello e disporre sulla leccarda del forno rivestita di carta forno il gioco è fatto cuocere a 190 gradi per 20 minuti lasciare intiepidire e cospargere di zucchero a velo vi consiglio se siete soli a casa di suonare il campanello dei vostri vicini altrimenti me le mangiate tutte è garantito provate anche voi poi fatemi sapere grazie a tutti grazie a tutti